Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Marco Vengeur Questa volta parlerò in italiano, ci saranno anche sotto tutto in inglese perché volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato per chi non ne fosse al corrente, i scorsi giorni sono stato sono stato agli Italian Esports Awards organizzati da Idea e Round 1 dove c'erano delle varie nomination, tra le quali miglior competitive team, miglior team Esports, migliore collaborazione, miglior giocatore ed ero uno tra i nominati nei giocatori, quindi a livello italiano sono riuscito a vincere questo premio, a battere degli avversari molto validi tra cui Reynor, campione del mondo di Starcraft, Tonizza, campione del mondo di F1 Obrun, fortissimo giocatore di FIFA, campione anche della E-Serie A Teb, che è un giocatore dei navi su Rainbow Six è una nomination molto difficile sono veramente molto fiero di me perché gioca Quake quindi è un gioco molto di nicchia e so benissimo che non è un gioco molto popolare tra le community italiane di videogiochi però sono contento di aver rappresentato l'Italia allo scorso Quake, negli eventi a cui ho partecipato negli scorsi anni e sono veramente molto fiero di aver vinto questo premio rappresenta molto per me sì, diciamo che l'evento è stato fantastico vi invito a vedere le fotografie poi linkerò un po' tutto in descrizione però sono veramente contento aver conosciuto tante persone del settore e comunque aver fatto due chiacchiere un po' con gli altri giocatori team manager e nulla, quindi volevo ringraziare tutti quanti per il supporto sui post che ho fatto su Instagram che mi avete scritto in tantissimi quindi sì, diciamo che è stata una grande emozione per me vincere questo premio speriamo l'anno prossimo di poter riparticipare vedremo, vedremo come andrà sì, volevo ringraziare tutti i giudici tutto lo staff di Idea e Round One per aver organizzato l'evento penso che noi abbiamo veramente bisogno di altri eventi del genere a livello italiano e nel nostro settore perché comunque il gaming ha tante potenzialità ancora nascoste che potrebbero venire fuori con molti più eventi dal vivo nulla, questo era un breve video e vi ringrazio ancora tutti il premio è veramente stupendo lo terrò in custodia molto gelosamente un abbraccio di cuore a tutti e tutta la comunità di Quake tutta la comunità italiana ai giudici, allo staff, agli altri giocatori che erano comunque in nomination ai team che hanno vinto sì, un abbraccio e alla prossima